Noi ci troviamo a Fossano in un campo privato che abbiamo costruito in questi mesi per poterci allenare per fare quello che adesso è il nostro sport che è la Spartan Race. Spartan Race fa parte di un circuito che si chiama OCR che sono delle corse ad ostacoli. Spartan Race è un'associazione che ha creato un format suo e pubblicizza il suo format in poche parole. Noi siamo tre ragazzi che si sono conosciti circa due anni fa frequentando un corso apposito di Spartan Race perché poi in realtà noi siamo arrivati qui con un percorso prima. Dopo circa un anno, un anno e mezzo di corso ci siamo accorti che avevamo delle idee leggermente diverse da quelle che il corso ci proponeva e quindi abbiamo deciso di staccarci. Inizialmente ci siamo staccati noi tre e abbiamo provato a fare qualche mese un po' da autodidatti. Siamo andati a fare una gara a gennaio e ci siamo accorti però dal risultato che non è stato un cattivo risultato ma che ci mancava qualcosa che da soli come in tutte le cose non si può raggiungere un obiettivo. Ho fatto una proposta a ragazzi e ho detto ragazzi io vi propongo un piano triennale, un obiettivo triennale dove noi in questi treni dobbiamo raggiungere questi obiettivi qua. Però lo facciamo solamente se troviamo un gruppo di aziende, sponsor che ci aiutano nel conseguire questo risultato perché per muoversi in giro per l'Europa servono logicamente dei soldi perché ci sono le trasferte, le gare costano e gli allenamenti comunque anche gli allenamenti costano perché farsi seguire da un preparatore per la corsa, le scarpe. Durante il lockdown Mattias che è il proprietario di casa prende e grazie alla sua azienda si fa imprestare un escavatore e costruisce questo diciamo il piano per poter fare il campo. Le persone che ci hanno accompagnato sono loro, loro ci hanno appoggiato e siamo partiti. Siamo partiti e abbiamo costruito questo pezzo di campo perché poi il campo si amplierà continuamente in base anche ai fondi che riceveremo e con i soldi di questi sponsor qua riusciamo in questi tre anni a pagarci le trasferte e le gare che poi noi metteremo il resto per continuare a implementare questo nel nostro campo. La prossima gara in teoria è alla fine del mese di agosto in Repubblica Ceca. Facciamo una gara la più lunga che la Spartan presenta che è più di 50 km, si chiama Ultra. Quindi questo serve anche per noi per riuscire a allenarci perché qui non c'è un campo di allenamento per questo. Qui non c'è.